Per lo spazio mangia e bevi o staria ricordando mercoledì 16 dicembre tra tradizione e gusto? Per lo spazio mangia e bevi o staria ricordando mercoledì 16 dicembre tra tradizioni e gusto? E quindi è d'obbligo dare un augurio a tutti i nostri amici, telespettatori, nostri clienti e quelli che ci seguono nel percorso che facciamo del buon gusto in effetti. So che ultimamente quando era il 16 cosa è successo? Abbiamo fatto quelle manifestazioni di K che noi facciamo due volte all'anno, quest'anno l'abbiamo fatta a Cetussi in Costiera Valfitana, è stato un bel evento, ci hanno riportato su alcuni giornali della zona del Salernitano come la città, altri. E poi anche le vostre telecamere sono state le nostre manifestazioni, penso che degli spettatori hanno potuto vedere o possono vedere quello che abbiamo fatto. Vabbè quindi voglio dire, ormai come dicevo prima sono pochi che non conoscono l'osteria, però è importante ricordare quella che è la tua ottima cucina soprattutto a base di pesce fresco. Siamo cucina marinara di tradizione quindi diciamo che sono uno dei pochi anche che con il seguito di mio figlio Vincenzo che adesso è lo chef, diciamo che anche io nelle situazioni che faccio scolastica all'alberghiero di Pagani mi fa piacere che gli allievi vadano avanti, è chiaro. L'argo è i giovani, io ho voluto creare questa associazione mia di là del ristorante che tengo che è K dell'Agro, Tramonte e Costiera Valfitana. Proprio nel principio delle cose per inserire i giovani nel settore lavorativo che si sono avvicinati al nostro lavoro che è il settore turistico alberghiere della ristorazione. Sono contento che i giovani prendano atto di questo e cerchiamo quando più possiamo supportarli di portare avanti. E il piacere nostro è che i giovani vanno avanti, anche per l'età guarda i giovani. Certo, è importante soprattutto poi dare atito a quelli che poi sono le persone che realmente valgono in questo settore che è comunque importante. Ma noi se vogliamo dare, avere il rispetto del passato per il nostro presente dobbiamo pensare anche al futuro, è il futuro siete voi giovani naturalmente. Nel frattempo diamo gli auguri di buone feste a tutti quanti, voi che ci seguite e a voi altri che fate questo lavoro. Grazie. Ministro, la Franco, auguri anche a te per il nuovo anno e ci rivediamo l'anno prossimo. Ci rivediamo l'anno nuovo. Intanto tanti auguri dall'ostaria di Franco Coppola e figlia a Sant'Egidio del Monte Albino. Il numero, il numero, il numero. 081, 515, 33, 99. Però non venite molti perché a noi ci piace stare da soli. Piano piano e non vi accalcare. Passo. Piano piano e non vi accalcare. Passo.